Buongiorno, buongiorno amici carissimi e buongiorno a Don Salvatore. Buongiorno, bentrovati a tutti, buona festa dell'Epifania. Altrettanto. Allora, il Vangelo di oggi, il Vangelo di San Marco, il capitolo 2, versetti 1-12. Dal Vangelo secondo Matteo. Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano «Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta». E tu, Betlemme, terra di Giudea, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giudea. Da te, infatti, uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo «Andate e informatevi accuratamente sul bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere perché anch'io venga ad adorarlo». Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre. Si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Questa bella pagina che tutti conosciamo, anche perché in qualche maniera ci permette anche di completare un po' il presepio, no? È classico che in questo giorno davanti all'immagine della grotta della Natività poi facciamo finalmente giungere i tre magi che portano i doni a Gesù. Questa immagine, questa icona, questo racconto che tra l'altro è unico nel Vangelo di Matteo, non lo troviamo negli altri Vangeli, ci restituisce una cosa molto bella. Intanto l'universalità dell'evento di Gesù, che pur essendo nato in una piccolissima frazione, una piccolissima città che è Betlemme, sta di fatto che è un evento che condiziona tutti. Infatti il profeta appunto aveva già annunciato che tu, Betlemme, non sei la città principale di Giuda ultima, non puoi considerarti ultima, perché? Perché da te nascerà un capo. E il fatto che questi magi, questi uomini probabilmente sapienti, che conoscevano un po' anche l'astrologia, ecco perché l'astronomia, ecco perché sapevano di questa stella, avevano fatto dei calcoli precisi, e conoscevano anche le storie, probabilmente conoscevano anche un po' le scritture, visto che loro stessi interrogano gli abitanti di Gerusalemme, Rode e gli altri, per capire dove, perché loro potevano sapere quando, ma non sapevano dove. Ecco che bello anche queste culture che si confrontano e si consegnano l'un l'altro una parte di sapere, che in qualche maniera aiuta a giungere a una verità più completa, tutta intera. Però ovviamente la sapienza ha bisogno di un cuore libero, un cuore vero. Infatti i magi arrivano a Gerusalemme e dicono pubblicamente questa loro ricerca. E Rode che chiama segretamente i magi. Ecco, chi ha il cuore invece incattivito, usa le conoscenze per dei propri interessi personali, e perché teme la bellezza, no? Teme la novità, perché ha paura di perdere il proprio potere. E infatti confabula con i magi perché loro possano rivelargli il luogo dove trovano il bambino. Ma poi avvertiti in sogno, tornano a casa per un'altra strada. Allora, ecco, ci auguriamo davvero che questa festa, che è una festa dell'universalità, della salvezza, della manifestazione di Dio, ci insegni a dialogare con tutti. E ci faccia rendere conto che ogni popolo, ogni tradizione, porta con sé una parte di verità. Una parte di verità che, se unita alle altre, compongono un puzzle più bello, più completo proprio. Però ogni conoscenza, ogni sapienza, ogni potere che si ha a disposizione, deve essere usato per il bene. Perché altrimenti anche la più grande delle conoscenze, usata per il male, diventa motivo di distruzione. Quindi ecco, ci auguriamo davvero che dalla grotta e dall'esempio dei magi possiamo imparare a dialogare con tutti. C'è un motivo, un significato per cui i magi sono tre? In verità non sappiamo che sono tre. Nel Vangelo non ci dice quanti sono i magi. Però ne abbiamo immaginato che fossero in tre per i tre tipi di doni che vengono offerti. Oro, incenso e mirra. Immaginando che ognuno di loro ne portasse uno, abbiamo immaginato che ne fossero tre. Però ecco, non sappiamo in verità il numero dei magi, ma sicuramente, simbolicamente, vuole rappresentare la tipologia diversa dei doni. E voglio dire, da subito anche i padri della Chiesa, commentando questo episodio, ci vedono nel loro il riconoscimento del re, quindi della regalità. Nell'incenso il riconoscimento della divinità e nella mirra il riconoscimento dell'umanità, di un'umanità destinata tra l'altro alla morte, ma una morte gloria, cioè una morte destinata alla resurrezione. La mirra è l'unguento appunto che si utilizzava per imbalsamare i cadaveri. Va bene, allora grazie Don Salvatore. Amici carissimi, appuntamento e a domenica, sempre con Verbum Domini, il pane della parola.